Ma io boccio, so 130 gradi all'ombra e a me mi tocca spacchettare adesso. Yugi e tutti duellanti ben ritrovati sul canale. Oggi, finalmente, con un qualche giorno di ritardo, sono qui per aprire il nuovo set Battaglia della Legenda Monstrous Revenge. Oggi ci sarà da ride e non da piangere, perché questo set nel pratico è buono, quindi praticamente qualsiasi cosa andremo a sbustare sarà più o meno buona. Ovviamente sì, come sempre ci sono quelle 2, 3, 10 cartine che valgono ovviamente di più. Però, nel senso, anche se mi uscissero un paio di Super Poli Secret, sicuramente non so qui a dire che è schifo, soprattutto perché sono Secret. Ovviamente ragazzi, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri che Card Game Corner sponsorizza, è sponsorizzato da Card Game Corner. Il mio sponsor dove potete comprare prodotto sigillato e carte singole e con il codice sconto 2023 cappello potete ottenere anche il 10% di sconto. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force Will e Digimon, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante, se ne può parlare. Detto questo, andiamo subito ad aprirlo. Allora, ovviamente ho già visto qualche opening, tipo quella di Meita Ezio, che anche lui si è venduto. Non è più, non è più comune influencer come tutti gli altri. E ha trovato, eeeh, cazzo, mascherina collector. Quindi, io devo essere da meno? No. Solking dei pack opening? Sì. Quindi, nel pratico, devo andare a fanculo lui e la carta che ha trovato. Perché qua tireremo fuori qualcosa di altrettanto valido. Allora, andiamo con il primo. Teoricamente il trick non è da fare, perché la Secret è l'ultima e io potrei aver visto la Prisma. Abbiamo spaccatura dimensionale, buona, questa la tengo da parte per me. Poi, non scatenate i mastini della guerra. Un Curibo pendolo. Aratama, anche questo lo tengo per me. E il nuovo supporto, eeeh... Bessia cristallo, top. Che come carta non è assolutamente male, visto che il mazzo fino adesso fa schifo. Con questa diventerà almeno decente. Allora, andiamo con il secondo. E speriamo di pullare qualcosa di carino. Ovviamente non succederà. Però, l'importante è fare meglio di Luca, che ancora non l'ha aperto. Abbiamo Teseo. Non scatenare i mastini. Mamba nero. E... no, aspetta. Il Cavaliere Costellazione Diamante, che non è male. E Arcere Rottame, ottima. Carta che si gioca in Edison. E che costava troppo. Quindi, grazie a Diokonami, ha deciso finalmente di tagliare una reprintatina. Perché Ultra, da DP10 e da LC5D, non può costare 15€. Comunque, ragazzi, non vi ho fatto vedere i quattro artwork dei pack. Che sono uno, due, tre e quattro. Totalmente insensati. Questo, boh... Questi ci possono pure stare. Lei... Non capisco perché. Ma va bene. Abbiamo Tore Burattino. Carta Sprite. Carta Mamba. Ecco, la carta cover del pack. E... Libro delle Eclissi. Anche questa ottima. Adesso, devo mettere da parte, capire effettivamente cosa riesco a sbustare. E poi comprare tutto quello che mi manca. Diciamo che, già il fatto che ho sbustato uno, due, tre e quattro, sono robe che dovrò... comprare in meno. Allora. Vediamo quel prossimo. Abbiamo Risentimento della Vipera. Io non capisco perché la Konami si è svegliata adesso e abbia deciso... Maledetta carta. Uh, bello. Si sia svegliata adesso e abbia detto... No, dai, facciamo... Carte... Serpente. Uh, maestro Trilama. Anche questa la voleva. Quindi, top. Si sia svegliata adesso con questa cosa. Soprattutto perché era da Tive che non davano un supporto a questo mazzo. Ma, vabbè. Almeno potevano chiamarli veleno, come i vecchi mostri. Però, ok. È un veleno? L'avatar del... No. Mamma Nero. Funziona con il veleno? Oh, abbiamo il secondo Aratama. E adesso vorrei trovare anche Sakitama. Poi abbiamo Ragnomadre Separante. E Saggio della Scienza. Uh, carta punk. Voilà. E Nessie. Top. Primo Nessie. Che abbiamo tirato fuori. Speriamo di riuscire a trovare anche gli altri due. Dovrebbe stare un paio d'euro. Però, comunque, sempre Nessie Secret. E, tipo, recuperarla da espansione potrebbe essere un po' problematica. Allora, andiamo con il prossimo pack. E vediamo cosa riusciamo a trovare. Ah, ragazzi. Ovviamente vi ricordo che se volete supportare questo canale vi basta solamente mettere mi piace, commentare e iscrivervi. A voi questa cosa non cambia niente, ma a me dà un supporto enorme perché facciamo arrivare questi video a tutta la community. Più che altro perché prima di fine anno vorrei dare 5k. Sì, lo so, è una strada lunga. È complicato arrivare a 5k per fine anno. Però, se mi supportate ce la possiamo fare. Grazie mille, ovviamente, a chi lo farà. Allora, andiamo col prossimo. E vediamo cosa troviamo, dai. Tiriamo fuori sta collector. Abbiamo un curibo, tipo, in stile francese. No, stile, tipo, rinascimento inglese. Poi, uro bonus, specchio edizione 7. E la magi dolce e regina, tirami su. Che me l'avevano pure chiesta di tenerla da parte. Quindi, l'unica cosa, non sono queste le carte che voglio. Io vorrei super poli, io vorrei altre cose. Più che altro, per quanto mi sia andato male, ho trovato una marea di carte che mi servivano. Quindi, sotto quel punto di vista, non mi lamento. Allora, abbiamo supporto DDD che non darà niente al mazzo. Non scatenate i mastini della guerra di nuovo. Il mazzo burattino che, ragazzi, lo avrete in breve sul canale. Poi, carta Sky. Totalmente inutile. Anche se, comunque, ha una scopa. E qua potrebbero uscire battute se esiste sul fatto che le donne dovrebbero pulire a casa. E Volpina. Ottima. Ti posta a 7 euro. Quindi, ok. Andiamo alla prossima. Vediamo. Abbiamo un ragno. Poi abbiamo un'altra carta per gli scacchi. Poi abbiamo Artista Minico Curibo. Abbiamo uno zombie. E Terraformare a Secret. Oh, grande. Così concludiamo il playset. Spaiato perché, comunque, ce l'ho da LCKC. E totalmente inutile perché, comunque, Terraforming a 1. E non si sa perché, sembra, rischi la banna. Visto che su Master 2 l'hanno levata. Ma vabbè. Allora, abbiamo un pendolo. Poi, maledizione di Aramathir. Mettiamola da parte. Sciamano Rosa che sembra uscito da, boh, un anime degli anni 70. Tire non è senso che sia incredibile. Numero 72. E un pendolo XI. Allora, allora. Dai. Su. Tiriamo fuori una carta decente così mi posso tirare giù pure le mutande. Oh, Sakitama. Non è però per questa che mi tirerò giù le mutande. Poi, protezione. Zemin. Eeeeh. Oh, che culo. Che culo la prima Super Poli Secret. Tanta roba. Veramente tanta roba. Dai. Che qua ci sono ancora tanti pacchetti. Ne abbiamo un altro da aprire che, ovviamente, apriremo il live sul canale. Giovedì alle 21.30. Quindi, vi aspetto. Non deludetemi, ovviamente. E prometto che a questo giro non canno. Grazie. Allora, andiamo col prossimo. Abbiamo. Oh, una la nera. Poi, uh, il secondo Sakitama. Carta totalmente inutile. Carta sprite inutile. E luce dell'ombra. Non è duality. L'effetto è simile, ma hanno prezzi differenti. E niente, vabbè. Me lo posso fare andare pure bene, anche se, comunque. L'altra poteva essere più interessante. Adesso, l'obiettivo sarebbe, vabbè. A parte la Collector Prisma. L'obiettivo sarebbe quello di beccare Azalea. È una delle poche carte costose che, effettivamente, mi manca da questo set. Allora, abbiamo Papillon. Carta pendolo. Tragedia sul campo di battaglia. Oh, ve dirò. L'artwork è incredibile. È veramente figo. Però, boh, per adesso è un po' così. Però bellissimo l'artwork. Penso sia la carta con l'artwork più bello di questo set. Veramente figa. Veramente tanto figa. Allora, abbiamo carta scacchi. Poi, protezione degli elementi. Carta punk. Quick fix. E regola d'oro. Va bene. Allora, seconda copia della carta per... Beste cristallo. Cosa ho visto? Cosa ho visto come secret? Porca troia. Un bellissimo Dante. Tanta roba. Veramente figo. Ce sta. Ce sta. Non è da MP. Non è da duea. Però, per i poveracci, potrebbe essere una buona opzione. Ragazzi, voi che avete speso dei soldi per comprare Biaco e Dante Common. Veramente. Potevate andare a puttane. Spendevate di meno. E probabilmente vi divertivate di più. Prossimo pack. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di carino. Dai, dai. È una magia. Sarà un altro regolo d'oro. O duality. Che effettivamente non serve male. Decodificatore link. Se non è male, me la tengo. Risentimento della vipera. Mamba nero. E no. Un'altra tragedia sul campo di battaglia. Ah, io sono pronto a tirar fuori il pisello. Cazzo... Però se andiamo avanti così, non si può. Cazzo, mi sono già spoilerato l'ultima. È una trappola. Che palle. Uh, macrocosmo. Dopo questa me la tengo per me. Di buono come trappola cosa c'è può essere? Niente. Butto come... Eh, infatti. Arcobal... L'enoluzione RGBT. Ok, dai. Questa non me la dovrei spoilerare. Abbiamo promozione. E fino a qua ce so. Poi guscio vulcanico. Anche questa buona per Edison. Gatticorn, ancora. Sciamano rosa. Per un secondo non so perché ho flashato a Zalea. Tu, tu... Ma che cazzo ci fai dentro questo set? Fanculo. Dai. Dai, su. Voglio la cazzo di Prisma. Non dico tanto. Anche una di quelle scrause. Ma solo per dire averla sbustata. Ha la nera. Protezione degli elementi. E il drago incredibile. È così incredibile che non me ne frega niente. Allora. Dai. Andiamo su sulle cose ciotte. Sulle cose belle e carine. Allora abbiamo def codificatore link. Al massimo. Se non me lo vuoi da quella. Ma damme un'altra super poli. Ma damme a Zalea. Ma damme... Rito di Aramesis. Damme Mysterion. Che... Ok. Uno non avrei comprato. E me manca ancora un Aratame. Non sa chi d'ama. Che potrebbero essere un problema. Allora. Almeno uno e uno di quelle. Sono ultra. Non chiedo tanto. Anche macro e fissure. Tipo in altri due pair. Non sarebbero assolutamente male. Poi abbiamo. Artista amico. Classico ribo. Lamia. E Iblin. Iblin carina. Secret. Nel senso. Forse è un po' tardi per ristamparla. Andiamo col prossimo. Allora. Vediamo. Abbiamo vaporizzatore fotonico. Poi scaricatuono. Vivere. Fantasma al drago sotterraneo. Cucciolo di ragno. E mamma mia. Ragazzi. Ancora supporti fotonico nel 2023. Ma ragazzi. È dell'era Zexal. Ma li lasciate. Sta. Li lasciate morire in pace. Grazie. Allora. Abbiamo ultimi tre pack. Non ci posso credere che Luca potrebbe avere effettivamente la Prisma. Dopo l'ultima volta che si è beccato la Collector. Sa che io ho passato. Uh. Aratama. Gli ho passato tutta la fortuna. Mamma mia. Trappola. Quindi. Zona sincro. Allora. Se è trappola ragazzi abbiamo già capito che è merda. Già la magia può essere interessante. Il mostro può essere interessante. Uh. È un Xiz. Potrebbe essere a questo punto. Polomeo. Equazione. Matmech. E. Mamma mia. Che a questo punto mi fa pensare. Cazzo. È short print. Abbiamo l'amina. Cazzo. Aratama. Dama e Sakitama. Mamba. Dama e Sakitama. Che culo. Che culo c'ho 3-3. Dai. Adesso l'ultima. Che rottura dei coglioni ragazzi. Neanche una cazzo di Starlight. Il problema è che io le volevo collezionare tutte. E come faccio se non riesco a sbustarle. E effettivamente costano una vagonata. Vabbè. Cioè se penserà più avanti. Vediamo. Speriamo che i prezzi si abbassino. E va bene ragazzi. Il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto. E fatemi sapere qua sotto con un commento. Se acquistarete o meno questo prodotto. O se andrete solamente di singole. Vi dico io. Facendomi un attimo due conti. Probabilmente mi mancano due macro. Due fissure. E azalea. Perché per il resto ho già comprato tutto. L'Enchantress già prese. I riti già presi. Stessa cosa gli Zeus. Detto questo ragazzi. Statemi easy. E noi ci rivediamo domani. Sempre qua. Con un nuovo video. Ciao a tutti.